buongiorno amici è da tutta la vacanza che sto cercando di fare un video dove prendo qualcosa qui al mare ma le uniche catture che sto facendo sono senza gopro quindi è l'ultima occasione per dimmerci e cercare di riuscire a farvi vedere qualcosa siamo sulla punta del porto e oggi tentiamo ancora e ancora e ancora barracuda il mare è un po mosso ieri proprio da questa costazione ho preso una bella occhiata e mi ha mangiato un bel barracuda però e non avevo la gopro come esca sto utilizzando un momotti 180 colorazione non l'ho ancora capito sembra un cefalo striato con delle righettine poi vabbè se ci sarà la cattura ve la farò vedere meglio anche perché se no non esce nemmeno il video ho avuto forse una toccata un bel barracuda Eccolo, finalmente Finalmente, finalmente Ci siamo, ce l'ho fatta Finalmente riesco a farvi vedere Barracuda Sei neanche piccolino Mi fai un favorone, Mattia? Hai il telefono, qualcosa per far luce Che qua non si vede niente Bello arrabbiato, questo Eh, bello sì Ti faccio la luce? Sì, grazie Olè Se riesco a slamarlo, magari Ti tengo a caldo Bravo, grazie Eccoci Non è anche pochissimo Bel pesce Vai, fammi luce da qua per favore Da qui, da qui Olè Gran bel pesce Sì, se non mi mangia la treccia Però mi fa un favore Guarda papi Vai Visto? Visto? Vai, posso rilasciare? Sì È lì che va Momotti 180 E non era vicinissimo L'ho preso lanciando di là Ma l'ho preso bello lontanino Finalmente sono riuscito a farvi vedere qualcosa Grazie 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 Grazie